però ma soprattutto piante sì esatto perché amiche abbiamo visto che non ce n'erano cioè le amiche sono tutte le amiche di Dagani perché lui scrive sempre alle amiche noi non ce le abbiamo perché siamo le bimbe di Dagani vabbè a parte questo aspettiamo un attimo che si fongi magari qualcuno a guardarci arriverà qualcuno speriamo perché dovrebbe arrivare qualcuno? due minuti, ho messo l'annuncio, cinque minuti live facciamo un po' di circo un po' di circo parliamo di di cosa è caso di cosa è caso quindi di mazzi che non ci sono di quello che non c'è sta chi è il maestro Lucchese? ah il maestro Lucchese, grande Salotti ecco parliamo invece ecco di cosa parliamo di Salotti a parte di Salotti e del Salotto di come Faina finalmente abbia capito che Magic non fa per lui ha cambiato gioco di Ocant e cosa poteva scegliere se non il gioco sullo sport peggiore dell'universo quindi se lo sport sul club americano ma magari quel gioco è anche divertente per carità però lo sport è la nostra forse alla Wooded gli hanno fatto il lavaggio di cervello a Faina ecco la prima cosa utile che ha fatto la Wooded da quando è nata quindi fa smettere Faina di giocare questo mi ha assumuto ma no ma Faina Faina è utile cioè sono punti sono punti facili i tornei cioè non mi sembra una cosa fatta bene parliamo di Orion che ci vince anche il maestro a Orion è già morto è già morto oh meno male io lo dico da prima che c'è da subito andiamo visto che c'è qualcuno andiamo prima grafica prima grafica abbiamo il Super Qualifier che è il primo evento in assoluto Super Califragilist il speaker spirito idoso e vediamo un quello che sarà il filo conduttore di questo 3 top ovvero due Canadian in più posto allora siamo tornati ti salvo subito diremo Canadian per parlare di Rug Delver non venite a rompere il cazzo dicendo che Canadian è un'altra cosa si non mi devi rompere il cazzo Canadian è vabbè Rug Delver chiamiamolo Rug Delver infatti io metto sempre no no chiamiamolo Canadian e va vabbè Cane di Dio Cane di Dio chiamiamolo Cane di Dio è ancora meglio vediamo due Cane di Dio un frutto misto i vari controlli e due show show che poi vedremo alla fine ha fatto bene solo sto torneo un conato di vomito scusate solo sto torneo e comunque vediamo che sì controlli ci sono ma non è che tutti giocassero controllo poi oh non abbiamo le percentuali del metto intero però vediamo in questo torneo pochi delver pochi delver pochi agrocontro negli altri poi adesso cambio grafica qui abbiamo ci sta primo torneo poi anche da capire se super qualifier ha comunque dietro delle scelte di mazze diverse come abbiamo detto più volte magari una scelta un po' più competitiva quindi meno delver almeno nell'idea appena dopo il ban che delver fosse meno competitivo rispetto al controllo quindi scegliere meno canadian rispetto ai controlli potrebbe essere un'idea e dopo i giorni dopo hanno detto ma proviamo canadian se abbiamo meno da perdere alle challenge e infatti si giocava di più probabilmente perché ha fatto più risultati controllo comunque sto torneo un valito gradatore poi vedremo una lista col controllo controllo che monta dovrebbe polverizzare delver non sbaglio eh si insomma starci male è abbastanza difficile poi tutto può succedere però ecco sicuramente sei avvantaggiato poco poco da fare le uniche carte che realmente possono mettere in difficoltà quel mazzo lì a me sembrano essere orb e vortex il resto abbastanza difficile neanche neanche cosa neanche sin pelotis no no in che si infatti infatti non è più come una volta quando poteva essere discreto contro miracoli adesso eh no no cioè il punto proprio che la novità è che che è arrivata con occo e poi e poi con uro è il fatto che appunto il legacy si possano giocare delle carte forti che facciano life gain e questo ha permesso di giocare silver library di main deck che è una carta ovviamente fortissima ma che i controlli non si potevano permettere sia perché non aveva un motivo di giocare verde sia perché non avevano fonti life gain ora che c'è tutta sta roba cioè library si dimostra per la carta irreale che è ovviamente adesso è chiaramente irreale quindi vediamo comunque un disrivelo in questo torneo per gli aggro control e i combo e i controlli come era immaginabile torneo dopo ovvero due giorni dopo abbiamo il challenge del sabato che non so neanche se è partito è partito quello di oggi invece non lo so vabbè e ancora altri due canadian due controlli dei combo sparsi in top 8 e invece ninja ninja ha fatto top lo stesso ha fatto top questo torneo quello del giorno dopo vabbè e e dopo vediamo qua come in top 32 ci siano 7 canadian e aggro control si è tornato sopra ai combo e contro si si ma come aveva previsto vici giusto aveva previsto del vero è morto del vero è morto ha detto vici al bordi delle strade del vero è morto e e quindi vediamo appunto che i controlli alla fine in questo torneo sono 5 vabbè si sono 8 però si contano anche i lancer diciamo sono 7 7 come i canadian cioè stesso numero di delver c'è anche un grissis delver così volante e stesso numero di controlli quindi alla fine sembra essersi ridati poi bisogna guardare un attimo per dirlo chiaramente come come sempre diciamo e non ci ascoltate mai come sempre diciamo e non ci ascoltate mai bisogna guardare il lungo periodo e cosa cosa vedete che che vi sconfinca particolarmente il monotasse in top 16 il ritorno eh sì stavo guardando stavo guardando proprio quello no più che il ritorno eh sì penso sia uno di quei risultati abbastanza saltuari di un mazzo che penso abbia veramente poco da dire al momento anche se resta un mazzo per cui non è impossibile che cioè che può avere ecco in teoria dei margini di miglioramento nel senso che possono ci sta che stampino una carta decente che può finire in tasse succede relativamente spesso il problema è proprio una questione strutturale ormai e cioè che veramente se non apri cioè ora più di un tempo se non apri di fiala devi aprire tutto esatto devi aprire tutto e purtroppo manca proprio manca proprio qualcosa del genere ecco le carte le puoi anche fare forti e manca l'accelerazione sul mana ma solo quattro fiale è un po' un problema facessero un bello sciomano bianco sai maveri potrebbe essere una scelta o assolutamente no nel senso sai che ci sono sempre periodi ci sono i periodi in cui tasse è molto superiore mavi dei periodi in cui può essere più forte di tasse si onestamente non cioè non vedo comunque c'è quella superficie che si gioca però sì però io penso lo giochino più perché dovrebbe essere un mazzo carino ma non mai l'impressione di un mazzo no esatto veramente forte ecco è un è un mazzo divertente da giocare che ti permette di fare molti trick però soffre un casino ragdell soffre un casino idelve ed è brutto da dire per un mazzo che ha 4 spighe 4 strigi e anche le fiale se soffre d'elve è una merda come qualsiasi cosa che soffre d'elve è un mazzo a base di creature che ha più gioco contro i control perché le creature riescono comunque a fare del vantaggio e gli permette di portare la partita più avanti sapete cos'è che si nota abbastanza in realtà è l'assenza dei counter deck per contro cioè non ci sono mi sembra Valakut né Cloudfoot ma prima settimana chi lo sa ma infatti ci sta secondo me la gente però è un po' però possiamo dire che era un po' telefonato il fatto che ci fosse tanti contro quindi stupisce quello che hai detto che non ci siano sì cioè può darsi in realtà che appunto per me hanno considerato come va bene per me hanno considerato come counter deck per counter solamente UG Omnitel ed è stato forse il motivo per cui erano tanto presenti magari il primo giorno il primo giorno infatti quello ci può stare ci può stare poi cosa vedi poi ci sono gli Eldazzi c'è un eroe con Grissis Delver che ho visto giocare One of Mind of One Mind lì cazzo si chiama successo e basta il giorno dopo invece abbiamo ancora due Canadian come abbiamo detto prima 80 carte tasse che vince il torneo contro Zio Francone in finale sì la morte di Magic morte di Magic quindi vediamo 5 AgroControl quindi più di 50% è bellissimo proprio come ho appena detto che il problema di tasse è che c'è solo 4 fiale e quindi la soluzione giustamente è giocare 80 carte e pescarle ancora meno volte ci sta è sempre la soluzione fai il contrario di quello che dici te o no? esatto è sempre la soluzione poi vediamo Merfolk Shift in top 16 dovremmo provarlo allora facciamo Merfolk Shift ho beccato qualche giorno fa Togores che lo giocava ma che? è Paradigm Merfolk con 4 tasse Oracle e Paradigm Shift ma perché? perché no? perché fa schifo al cazzo no no guarda che se te riesci a prendere contro Delverdeck 4 caverne 2 calici e 2 nemesi vai con un filo di gas ci sta vai perfetto e sei in pole position quindi vediamo vediamo come in top 16 in top 32 escano poi fuori combo tra l'altro un'ottanta carte Drago di Buonamond non ci fa perché siamo alla fiera del paese totale totale e Girouda Girouda è un fattore Girouda inizia ad essere un fattore almeno sembrava essere un fattore lo becchi ci vinci ci perdi però è lì è lì rimane lì ecco Girouda è il motivo per cui non ci manca il real o sbaglio eh eh sì comunque qui è particolare il fatto che appunto la top 8 sia dominata da agro control ma in realtà la top 16 sia infestata di combo è particolare sì quello diciamo è una cosa che abbiamo visto molto spesso in tutti questi anni di carriera se vogliamo chiamarla carriera di convento in cui in top 8 molto spesso in combo c'erano veramente pochi dopo uscivano in top 16 in top 32 sì magari mancava proprio l'ultimo passo per eh un tipico di combo il combo abbonato agli x2 andiamo a commentare i controlli visto che da quello che ci interessava quello di cui abbiamo qui qui pochissimi controlli cioè questi sono in top 8 come? sono in top 8 ah no te dici i controlli nella grafica di prima eh sì cioè sì nella grafica di prima no no vabbè comunque tre qua no qua cinque ho scazzato a scrivere una cosa erano 8 8 controlli ok erano 8 perché avevo scritto due volte agrocontro 8 controlli no allora ci sono ci sta e no niente stavo dicendo andiamo a commentare i controlli controlli abbiamo intanto cool user l'ha usato l'ha fatto due volte il top 8 quindi sarebbero 6 in quelli in top 8 in questi due tornei vale doppio vale doppio ha fatto qualche modifica ma niente di importante allora c'è il mazzo di gradazione che ha vinto che penso sia il suo solito mazzo no? sì non l'ha cambiato quadratissimo anzi forse ancora più quadrati prima e niente cioè dovrebbe essere dovrebbe starci abbastanza bene da è cambiata abbastanza la side mi sembra da controllo dovrebbe starci molto da controllo da Canadian che adesso è decisamente bene decisamente bene quindi molto molto forte i soliti 4 euro i medi di di side c'è il silenzio non mi ricordo giocato il silenzio anche prima credo di sì no mi pare di no cos'è che è cambiato molto a te che ti dico già è sicuro ma io io ricordo solo che ci ho discusso la lista e mi sembrava di avervi detto che erano fighi silence e priest però non ricordo se li giocasse già a lui mi sembra e ah già vedete dei meriti no no non voglio di cazzare no 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 non voglio di cazzare beh scherzo non ricordo sì comunque la lista bene o male è sempre quella la lista il taglio il taglio del formato quadratissimo poi abbiamo un 5 colori ecco sì una cosa questa lista qui magari fa un po' di concessioni a combo g1 non giocando drown in the lock ad esempio che erano quei counter extra personalmente a me decidevano abbastanza spesso il g1 cioè mi capitava di vincere dei g1 proprio perché avevo drown con questa lista qui si fa sicuramente un po' più fatica però comunque infatti la side è abbastanza insomma incazzata giustamente quindi ha senso vai avanti il 5 colori è simile al tuo che differenze ci sono? sto guardando e sì ma alla fine sono tutti simili sti mazzi cioè non non capisco bene mono blood un mono back to basic mi sembra che non si sia saputo decidere o forse gli mancava una carta non capisco bene perché uno dovrebbe fare uno split in questo caso anche perché sono due carte che sì ti fanno giocare nello stesso modo nel senso che vuoi comunque fecciare a basica però hanno degli effetti degli impatti diversi e se tu non sai se tu non ce l'hai in mano può anche darti fastidio perché devi giocare magari in un certo modo aspettandoti di pescare qualcosa il non sapere cosa pescherai tra quelle due può anche essere un problema non credo sia una cosa comunissima può succedere direi l'unica cosa che potrebbe essere il fatto che sono comunque degli aimaker che a seconda del matchup magari ne vuoi più uno rispetto all'altro ad esempio blood moon è una di quelle carte che se entra contro del verdeck come rag è praticamente finita perché non a meno che non abbia o il counter o il retro to nature per il resto back to basic magari ci gioca attorno e back to basic invece potrebbe essere più forte contro cloud post o comunque eldradi perché non dà mana all'avversario mentre blood moon in certe situazioni non è così cioè gli permette comunque di fare qualcosa potrebbe essere un'idea potrebbe essere un'idea e vedevo sottando la vista del gradatore non gioca plug engine giusto? no no gioca ma è giusto cioè lo giocherei sempre gli ingegneri o perlomeno nel meta passato preferivo di gran lunga quelli però o giochi quelli o giochi da winter non ha molto senso fare degli split visto che lo ammazzi da solo vorrei rispondere al maestro dopo ne parliamo e beh chi dice che faccia schifo che sappiamo bene chi è è semplicemente un fan di vice vice 2 lo chiameremo vice 2 dotti da oggi se dice 2 pure te no dice il maestro parla dei compagni dei compagni ho preparato una grafica finale sui compagni sull'annuncio di lunedì e mazzo di mar ecco mazzo di mar è leggermente diverso invece mazzo di mar allora lui allora intanto opta per una mana base con poche come al solito con poche basi l'unica vera giustificazione mi sembra il fatto che voglio giocare turac perché poi tutto il resto è già stato dimostrato che lo si può giocare tranquillamente ma lo chiameremo el viagra c'era sempre duro c'è sempre il cast duro per giocare sui senti basi e boccia turac non saprei poi c'è un po' strano il mazzo da valutare più che altro perché contro uro né turac né inquisition sembrano proprio carte ideali però contro combo sicuramente lui mantiene lo stesso numero di counter cioè di forze sei forze però mette otto scar non gioca neanche carca sicuramente eh no non credo che possa permettere sì no no esatto però non la gioca quindi cioè non lo dice gioca agli ingegneri di side ingegneri giocano a quattro spighe per uro e non gioca cioè proprio ora che il live è fenomenale e gioca solo una inside vabbè è il solito male è il solito male comunque il tipo teferi il solito giochino teferi turac snapcast e robe varie insomma cioè il mazzo sicuramente è alzo perché poi c'è Iorion che sta lì c'è Iorion che sta lì e poi abbiamo i miracoli Morasso chiede meglio 5C o 4C secondo me non è che faccia molta differenza come te la senti non lo so cioè si gioca tante carte che vabbè a parte i miei miracoli si so non giocare 5C c'è tutto tutto dentro tutto dentro ma in realtà no se giochi 80 carte è peggio è peggio che non vuoi giocare le red di side o non giochi 4 cioè personalmente ecco appunto qui Mara sta giocando 80 carte e sta giocando la vulcanica per giocare 3 red in un mazzo di 80 carte ecco lì è un circo potrebbe veramente potrebbe veramente non valeva pena onestamente penso che il rosso abbia più senso in una lista 60 comunque il rosso un attimo mi chiamo ragazzi che beve paziente eccolo chiudiva la porta di libro a favore per cosa dici Manuel ma per me tutti i massi con più di 60 carte sono la fiera del paese quanto fa ridere cioè mono library non massano 80 carte è la marrata questa qua è la marrata è la marrata no vabbè sicuramente punta di più a fare più che altro ha una curva a 1 cioè ha una curva a 2 che è intrasata a min deck dai decay dai tour agli snapcaster ma non è neanche una carta ridondante con qualcos'altro cioè ne gioca 1 no no è una casa boh inspiegabile la silver library monopare non è ridondante con una smart card non mi so esatto non me lo spiego bene onestamente cioè no non so c'è proprio di solito uno per così strano può servire a completare tra virgolette la potenziale ad esempio come se fosse tipo il quarto euro ma il fatto che anche se sono entrambe carte che grindano lo fanno in maniere completamente diverse quindi non mi sentirei dare quelli diversi ma si dice chiedeva per i quelli da 60 cata se è meglio 4c o 5c ma secondo me io non vedo dipende come se la sente il giocatore non credo che una scelta onestamente guardiamo prendiamo come riferimento la lista del gladiatore no secondo me peer blast è nettamente superiore a clusterstone ok c'è da dire però che per come ha buildato lui la lista e ha più bisogno di aiuto controcombo perché non ha quei due counter main deck in più quindi può darsi che allora nella sua lista possa essere meglio clusterstone però idealmente è quasi gratis veramente giocare giocare il rosso dipende tanto da come approccia anche g1 eccetera io penso che comunque cercherei di giocare cercherei di giocarlo al rosso però il motivo per cui il mazzo è forte non è che può splashare il rosso e basta sono proprio che le carte che giocano di main sono assurde e poi il rosso è una cosa in più volendo difficile dare risposta anche perché in questo momento preciso non sto giocando proprio però ai tempi mi sembra abbastanza chiaro che il rosso fosse corretto adesso e poi abbiamo i miracoli tanta carte vale tutto la stessa identica para para la stessa Abuse and Grow veramente ma no è che come si possono percorrere lo so beh c'è però veramente una roba inguardabile monobal no monocount spero ok balance quante non gioca 2 balance anche balance 2 library non sarebbe il caso di giocando di più sì però più che altro le due counterbalance sole mi sembra cosa estremamente randomica considerando il fatto che tra l'altro non gioca cioè non gioca fortemente non gioca cioè boh no forse almeno 7 reclamation per cui dici se te la spaccano la riprendi virtualmente delle copie extra nel caso vedessi la prima però si vede apparire wilt inside che sembra aver appunto rimpiazzato le tante net un attimo che mi chiamano di nuovo che cazzo è oggi chi è paolini ma chi è che cazzo c'è cosa che è diventato famoso monti cosa che cazzo che vabbè wilt qual è wilt wild cazzo è wild wilt non credo se pronuncio wild però non ho idea in realtà e comunque è disenchant ciclabile ah quello nuovo ok e quindi la possibilità di ciclarlo nei momenti in cui è morto probabilmente è superiore al fatto che possa avere un terzo effetto ecco specialmente in un momento in cui comunque il cimiterio non è che venga utilizzato o perlomeno contro cui non è che vuoi tirare ecco va bene allora andiamo a parlare di Canadian così c'è di tutto e di più qua allora in pratica diciamo subito che Aitor sempre lui Aitor non molla un colpo Aitor ha fatto doppia top con Canadian ha fatto doppia top quindi ne metto solo una ha fatto qualche leggerissimo cambio perché ha giocato Isamaru e ha preso i poteri capito vince avrebbe detto sicuramente presi i poteri lasciati si è ricaricato il mana dai parlaci un po intanto Manuel si deve parlare assolutamente di Geganta Yeganta Yeganta perché finalmente dopo una stagione di Lurus i Delverdeck non possono rimanere senza Companion e adesso possono giocare la loro alce al modico costo di giocare un game senza force puoi avere a 5 mana 5 mana un 5-5 fortissimo è stata una scelta ideata da Silvio Wataru che è sempre una certezza con i Delverdeck ha detto era un test e quando l'ha giocata fondamentalmente non l'ha impressionato molto però chiaramente esce una carta del genere dici la vuoi provare e ci sono stati degli imitatori ed effettivamente ha portato a del successo però sinceramente come carta è una carta spensata principalmente per i metri di attrito quindi control e contro forse è nel mirror il problema però è che in un mirror di Delver 5 mana sono un costo veramente proibitivo soprattutto quando sono in mezzo delle vaste qualche force la tieni sempre non è che siano clamorose dipende molto il side in e il side out però il tuo oppo è sempre in dubbio se ne hai una esatto riveli giganta dici perfetto lanciamo tutto al massimo siamo fuori da da days e possiamo e per il resto siamo siamo a cavallo l'unica cosa però è che contro control vuoi giocare giganta e hai anche winter orb 5 mana contro 2 contro 2 ma poi non è evasiva quella carta no 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 contro controllo fa così schifo forse fuil nel senso appunto a parte è quella cosa lì no 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 a parte quella cosa lì che non mi sembra che faccia schifo cioè poi diokan forse una creatura evasiva poi dici in bersagliato le vola fa niente fa niente è che tenti di giocare contro control cercando di grindarlo tu stesso quando in realtà non hai i mezzi per stare al passo di un 5c poi tra l'altro anche lì parto con 8 carte in mano salto gioca iorion cioè non hai neanche quel vantaggio lì per dire no sì esatto è stata una scelta una scelta ma Silvia Wataru è giapponese sì e allora ecco perché è perché vabbè adesso iniziamo con iniziamo con i pregiudizi non è pregiudizio non è razzismo la verità che poi al di là al di là della del voler giocare giganta che come ha detto sarà entrata in numero limitato di game per il resto la lista è una signora lista qui ha voluto puntare molto di più su arcanista main deck e quindi il full set dici un po' qual è secondo te la build migliore in questo momento tre arcanisti due arcanisti quattro i mandrilli sì no penso che vada molto ehm vabbè quelli di Ziofranconi sbagliati a prescindere quello possiamo dire no perfetto abbiamo detto povero povero Ziofranconi no comunque diciamo che ci sono alcuni slot che sono ti permettono di impostare l'intera lista l'idea di solito è vuoi giocare con Goif vuoi puntare di più su Goif o più su Dreadward è l'ultima che Ziofranconi ci sta ascoltando un saluto a Ziofranconi perché comunque arcanista è una carta che sicuramente aiuta a grindare perché se riesce a stappare è in grado di recuperare di fare molto vantaggio l'unica cosa è che ha bisogno di altrettanta di altre bestie che mettano pressione perché da solo non può vincere la partita inoltre arcanista ti limita molto in termini di deck building perché comunque vuol dire che hai devi dedicare molto spazio agli instant o le source a costo 1 quindi devi aumentare il cantrip devi avere almeno 5-6 rimozioni a costo 1 e poi non puoi giocare magari 8 per il delle carattere inside che magari ti potrebbero far vincere i matchup complessi ad esempio 4 arcanisti ti rende impossibile giocare Gabriel del Becchino cosa che magari in una lista con 4 gol e 2 arcanisti potresti fare il pensiero potresti farci il pensiero potresti mi dici Manuel ma perché 2 mandrilli e non 2 gol i 2 mandrilli perché comunque il problema di rag in questo momento è che hai una curva che è tendenzialmente alta perché hai 3 occo 4 trappa 2 e se aumenti aggiungendo anche altre bestie il rischio di avere una curva troppo intasata tra il 2 e il 3 però c'è da dire che se tu hai mandrillo invece di Goif il secondo turno succede il contrario ad esempio quindi insomma sì però mandrillo e Goif comunque sì mandrillo e arcanista riescono comunque a a stare nello stesso mazzo senza problemi per il fatto che appunto una bestia un ciccione che riesce a castarlo ha umana ed è comunque in grado di passare sopra ad alcuni problemi come possono essere delle madri delle rune delle nemisi anche se si vedono poco e trample effettivamente è un effetto che in rag vorresti anche per far passare quei tre danni contro delle vipere o delle strisi qualcosa che non si può scolgare di teen street huligan che dice è probabilmente penso che il piano di silvio ataru è avere avuto un piano post side contro i mazzi a base calice in cui tu limi degli arcanisti dove effettivamente contro il drazzi non è particolarmente forte e prova a sostituire con teen street huligan che è un modo per farlo a costo due è uno spacco artefatto a costo due che elude taglia elude le spine rametista e in più permette anche nei momenti morti di attaccare non è forse è bastante figa come carta cioè non è stata valutata precedentemente mi sembra penso sia la prima volta che la vedo giocare in rag se non mi sbaglio allora è una delle carte carte degli antichi carte degli antichi va bene io dicevo in tempi moderni diciamo che Silvio Ataro ha sempre cercato delle linee alternative delle alternative ad Abraid ancient garage perché lui è sempre stato solito giocare o l'huligan oppure anche il masticalingotti una carta tanto cara a gazzola che se ci ascolta lo salutiamo a gazzola è caro perché lui a gazzola mastica cazzi solo per quello esatto e poi dopo aggiunge anche i goif che sono inside perché dici magari main deck perché magari dici goif lo voglio sono indeterminati match up come possono essere il drazi come può essere il mirror e lì effettivamente non ne vuoi tantissimi perché con arcanista si rischia di perdere delle spell mandrillo gli toglie delle spell e quindi ne vuole un numero limitato comunque se voglio si e te la giochi e te la giochi molto sempre sull'equilibrio tra arcanista e goif in queste miste e invece altre due caratteri che vediamo di main una è Clotis che decide ormai è il master però a parte zio francone che si rifiude di giocarla e neanche corso la gioca neanche si deve ruotare però gli altri la giocano decide c'è anche chi la gioca di main e poi il daghetto ok allora partiamo con Clotis che è come avete come hai detto te è un master nelle build di rag principalmente inside lo stanno provando di main più che altro per avere una possibilità di vincere il G1 contro 5C perché è un pezzo che quando entra non lo togli contro il mirror magari un Zplay come suggerisce Buschi può avere un senso anche se non sono particolarmente convinto più che altro perché ti permette di avere un edge durante le situazioni di stallo però in tutto il resto non ti risolve delle partite linee di gioco fumose di Buschi no vabbè però è una carta che può essere una scelta di meta perché comunque gestisce può gestire alcuni preblade che ha il mazzo il primo fra tutti è Euro oppure anche particolari strategie come può essere l'home come possono essere non dico mazze a base graveyard perché un drop a 3 che funziona il turno dopo che entra non è proprio la strategia però qualche recursion qualche soft recursion sì è un name maker contro control e sicuramente vale la pena il draghetto invece è sicuramente carino in un meta magari in un meta magari difficile da prevedere in cui magari ci possono essere tanti combo è carino perché comunque ha una buona sinergia con arcanista è una spell blu quindi facilmente pizzabile e avere rapidità non non è malissimo però probabilmente se ti aspetti tanti mirror e tanti control forse non è la scelta più adatta soprattutto in un momento in cui le peer blaster sono ormai lo esatto dice zio francone che non ha giocato a cortis perché si aspettava più controlli di orion che ha 60 carte qui magari è peggio contro gli orion può essere peggio è una carta che sai di resti comunque quindi non e contro soprattutto liste di ma non ha avuto problemi perché stavano sotto vasto tanto il problema però è che ma è una è un'eccezione all'interno all'interno di metà se non puoi fare magari ragionamento nelle challenge se ti aspetti di beccare per otto tour di mare no per scherzo però comunque contro contro a meno che non sai di essere contro mare poche volte dici cioè fai la stessa piano di side brazen come siamo messi a brazen tornata no c'è sempre stata poi brazen che mi è stata una restituzione di lì sì però è sempre però a causa di Oko è sempre stata una carta che non si è vista più della monocopia a differenza di Grixis e UR dove le due copie sono quasi un must qui è sempre è sempre stata molto si è vista sempre di rado o almeno in minore copie ci può stare il passaggio può essere sia di mente che di side però sicuramente l'assenza dei 20-20 ha fatto in modo che questa carta veda sempre meno gioco anche perché comunque contro contro è una carta che vuoi non vuoi tantissimo però sicuramente nel 65 è una scelta molto buona vorrei far notare più che altro Aitor che si aspettava molti mirror e ha deciso di mettere l'iPhone the Lome di Mane iPhone di Mane e Monta cos'hai a dire su questi Canadian ora sinceramente dovrei provarli un po' per dare un parere insomma paragonabile a quello di Anna allora ti faccio una domanda perché abbiamo tutti questi Canadian in top tra l'altro ci sono solo la top 8 perché è il miglior world Canadian è la domanda ma tipo a parte quello perché zero 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 o UR delver anche nelle top 32 di secret almeno ma UR penso che allora intanto fatichi da Canadian in generale se arrivano i Goif o robe del genere poi in generale UR che va magari come a fine top di curva Nemesis Nemesis diventa una carta indecorosa e quindi quello magari potrebbe aver perso qualcosa in quel senso in ogni caso la possibilità di avere una side migliore e di giocare OCO è semplicemente un power level più alto e diciamo la la sicurezza in più che ti può dare una mana base con basiche e solo bicolor non è abbastanza per colmare la differenza di power level penso sia semplicemente quel discorso Patriot è tornato il roito che era prima abbiamo visto un expert delver in America penso sia uno dei peggiori mazzi che uno possa giocare a me che forte in tutti i metà e e poi boh e Grixis io credo che Grixis in realtà sia sempre comunque buono però probabilmente ecco non è il momento in cui i controlli li vuoi affrontare facendoli torsius di primo probabilmente ti preferisci aggredire in un modo diverso un po' come sicuro Annes sei d'accordo? sì praticamente c'è stato un consenso generale sul scegliere rag come il delver deck di riferimento la lobby dei giocatori di delver ha deciso che si deve giocare canelian quindi ma sicuramente il delver deck che presenta le minacce più variegate e sicuramente più resistenti a un meta di control senza comunque perdere particolari punti contro gli altri matchup e nel mirror avere bestie che resistono a vault è sicuramente un vantaggio non da poco ok chiedevano se non è vero che se non era morto delver in pari che fosse morto delver però evidentemente ho rispondo a domande di facchini di prima a cazzata parte avete qualche idea sul meta cartaceo quando si potrà provare a giocare tra l'altro quando si potrà provare a giocare della domanda quanto del meta di MTGO trasera rio allora secondo me intanto la gente adesso è ovvio che stia comprando poco rio immagino io ho appena comprato 3 mocks di chromo forge up però questa è una storia e generalmente non credo che un giocatore adesso dira adesso mi monto un mazzo legacy così anche gli stessi giocatori legacy che magari hanno altri mazzi che senso ha comprare un mazzo che senso aggiornarsi con le carte o sono fissati di team o sono fissati col kernel oppure secondo me i mazzo che avranno prima della quarantena lo aggiornano va detto che bannati i compagni Zird e Lurlus si è sostanzialmente tornati un po' al meta precedente si pensa si debba tornare al meta precedente certo c'è Iorion ma giocare Iorion miracoli miracoli normale giocare Iorion 5 4C giocare 4C non è che sia fantasta difenza ti compri Iorion ti compri due cazzate ecco ci sono Iorio da comprare ma Iorio era uscito ben prima della quarantena quindi secondo me quanto trasverà del net online di sicuro ci sanno i soliti tasse in Italia che online non si vedono mai quelli non andanno via quelli non si muovono quelli proprio sicuro c'è un po' che certezza in Italia è una di quelle è questa qua è una detent access una detent access che non viene pagata ovviamente e anche show e show nei limiti nei limiti no no anche show no show bisogna ripescare la statistica perché secondo me show è uno dei mazzi è molto più giocato nei tornei di settembre nei tornei di settembre e uno dei mazzi di giocati però piano piano si abbassa perché dopo l'estate la gente non ha voglia di pensare e gioca quello mi ricordo un full season che viene di stare giocato intanto fai una domanda su Shadow Shadow è morto e sepolto non c'è nessun tipo di possibilità di farlo girare con basti 4C 5C Shadow ieri lo giocava da ghani il mio tono penso dica ieri lo giocava da ghani remava ha lo povere il caso è giocato dal ninja D D può avere un senso se saltano Astrolabio e Veil probabilmente perché Veil è una carta che troppo è veramente esageratamente forte contro contro il mazzo e visto che il mazzo non può quasi mai salare out gli scarti praticamente perché appunto fa parte del game plan e Astrolabio rende le mana base appunto troppo stabili e ci ha dato comunque un mazzo che traeva buona parte del suo vantaggio sul fatto che poteva letteralmente giocare con una terra veramente e magari anche appunto slandare gli altri Delver e i controlli gli altri Delver puoi ancora slandarli e ci puoi comunque penso tranquillamente giocare però ecco gli altri i controlli sono sicuramente problematici da affrontare io non vedo grossi margini per Shadow in questo momento a meno che appunto non ci siano dei bann ulteriori o qualcosa e chiedono anche della caracass di side senza crop rotation una scelta che qualche volta si fa poi quanto senso abbia non lo so annual penso che caracas sia proprio una scelta sicuramente perde molto senza crop però è una scelta che in un momento in cui è una carta che potessi ridare non solo contro i vari mazzi a base creature leggendari come può essere ReniMator come può essere 20-20 la puoi rimettere quando togli le vaste contro contro perché sai che c'è sempre una carta che sei in grado di rimbalzare e rimani e tieni un land drop in più che ti permette di castare Oco che ti permette di castare Clotis o che ti permette di castare delle altre bestie il vantaggio di quella lista in cui c'era Caracas è il fatto che la giocatrice avesse anche euro e quindi permetteva di rimbalzare rimbalzare quella bestia e quindi permette di fare il giochino andiamo alla grafica dopo ci ho buttato dentro anche nel drazi e ninja ninja mazzi ha fatto due risultati di fila sempre lo stesso tizio sempre la stessa lista come mai secondo voi asculato asculato intanto il fattore sorpresa al solito può essere può essere abbastanza insomma pesante e poi onestamente motivi aspetta che riapro la lista mi sei chiuso un attimo però motivi particolari non è che mi vengano in mente cioè ha qualche edge particolare contro controllo contro delve non lo so allora sto guardando la lista allora contro contro non mi sembra contro controllo ha un suo perché tutto sommato perché l'idea fa vantaggio che è esatto cioè è di fare vantaggio in un modo iniziare subito a fare vantaggio no in un early game tu sei più forte di contro nei primi due tre turni poi dopo tutta un'altra storia se però te in quei due tre turni riesci ad accumulare un vantaggio che non è solo di board ma è proprio il livello di vantaggio carte la puoi portare a casa mentre se hai solamente una delle due cose se hai vantaggio carte ma non hai board a un certo punto inizierà a farne di più l'avversario capire appunto di vincere partite dove il canista aveva connesso più volte perché l'avversario non aveva fatto in tempo uccidermi ad esempio oppure se hai solo presenza sul board ora che ci sono tanti modi di guadagnare vite il controllo riesce a stabilizzare molto bene questo mazzo cerca di fare entrambe le cose lo fa ovviamente giocando carte indecorose tipo ornitottero che ovviamente è un mazzo che ha bisogno di incastrarsi è un mazzo che fanno notare senza fonderire fonderire sono lì l'altro si chiamano ma la fonderia è lenta esatto mi sembra molto macchinosa mi sembra molto macchinosa l'approccio l'approccio qui è molto è molto diverso e qui gioca Ferry Sea che è la fatina che scraia no? quando entra esatto ha senso proprio perché tu vuoi incastrarti è una cosa fondamentale in questo mazzo e lo vuoi fare subito e lo vuoi fare subito l'altra carta plausibile era la fatina quell'altra quella che quando entra peschi se ne è già un'altra cosa per fare mischia mi sembra però chiaramente non c'è spazio ed è stata scelta Ferry Sea probabilmente in modo corretto proprio perché vuoi trovare il tuo ninja il più presto 11 ninja quindi tende a trovarlo ecco immagino poi cosa abbiamo è vero a Sider c'è la solita mono mind backtrap abbiamo back to basic Sider due dead of night tra l'altro tratta che non si vede tanto spesso sul metgo dead of night quando i soli ingegneri fa ancora meno invece lo sia due ingegneri che due da esperfish da esperfish non vorrà perdere ma qualcuno che giocano tight probabilmente c'è qualcosa che mi sfugge di giocano tight in realtà motivi particolari credo che ce ne siano pochi perché qui a differenza magari di UV UV aratro come lo chiamavamo noi punta molto meno sul prendere delle pari vantaggi con le terre con con gli 1-1 però è una carta che sicuramente ti dà un effetto shuffle in più e ti permette magari di avere di avere del materiale per continuare per impostare il tuo gioco quando sei on the draw dove lì effettivamente tight fatta in out ti può dare magari ti assicuro due land drop e questo mazzo ha bisogno di hitare terra nei primi 3-4 turni perché se no con la curva 3 intasata che ha lui e di side vediamo triplo forza forza nation e soprattutto triplo giz the break di terriana memoria doppio nerf doppia vasta c'è un po' di tutto è un circo incredibile è un circo incredibile e e solo di men c'è qualcosa per il cimitero perché di sai c'è solo monast in peace basta e no non dovrebbe avere nulla quando dice contro giroud non fa niente in peace perché dobbiamo giocarlo giusto meno più che altro al posto di rip potrà starci di più la monogabbia se il problema era giroud allora parliamo un po' di tasse che magari è più interessante tasse 80 carte sì ma perché il discorso non è tanto quanto sia interessante questa build però dà degli spunti sul concetto delle 80 carte e su come ha anche dei vantaggi in certi casi ovvero qui il discorso è questo tasse a volte aprire le mani che hanno dei chiodi questi chiodi sono di monumentalmente nel momento in cui tu vai a giocare 80 carte riduce la possibilità di avere uno di questi keep in mano riduce anche la possibilità di avere mistica che ovviamente a me sembra un discreto crimine però in generale se vedete come è buildata questa lista qui gioca varie monocopie che sono carte che possono tranquillamente fare schifo determinati matchup spirit keeper è forte contro matchup che non hanno spiga ad esempio l'atone alcuni matchup è fortissimo in altri osceno quindi quello che fa questa lista è ridurre pesantemente diciamo l'impatto cioè la possibilità di pescare una carta non adatta al matchup chiaramente si preclude anche la possibilità di pescare di pescarla naturalmente o perlomeno la riduce gioca 4 recruiter proprio perché cercare di ridare la consistenza persa poi al solito c'è anche il discorso delle fiale che ad esempio se non apri di mano hai meno possibilità di pescarla dopo che è una cosa positiva però il problema è che hai meno possibilità di pescarla di mano mi sembra un problema molto più grosso rispetto al rischio di pescarla dopo la side se verete comunque buildata con un senso cioè le monocopie sono ovviamente creature tutorabili il resto è in copie multiple anche se comunque i dopern sono un po' sono tanta carte non è che siano proprio come se Jasmine non gioca neanche di meglio eh no perché ha 7 spighe esatto io onestamente è una ballista faccio un po' faccio un po' fatica a a giustificare la terza spiga sopra magari la seconda giver onestamente e l'istante è una domanda riguardo qual è il vantaggio in questo mazzo di avere cioè cosa giustifica avere 20 carti in più nel mazzo per Iorion in un mazzo come Detentaxis no no il punto io penso sia a parte la volontà di fare il circo penso che il punto sia proprio il discorso che avendo più carte ti impattano meno ognuno perde il cazzo che però vorresti giocare e hai comunque il fatto che Tass è comunque un mazzo che ha dentro di sé varie carte cioè hai varie carte giocabili e a volte magari vorresti giocare 4 revoker ma non è spazio a volte vorresti giocare appunto magari tomic ma non è spazio quindi sono abbastanza ovvie le carte quali sono le carte che diciamo sono sinergiche con Iorion allora i Flick e i Wisp la Speedkeeper fa la Speedkeeper la Speedkeeper la Speedkeeper la Speedkeeper fa il disastro con Iorion è chiaro la Speedkeeper fa il disastro poi c'è la Speedkeeper no quando muore fa qualcosa ok Barzile 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 potenzialmente revoker revoker se puoi cambiare soprattutto no ma Iorion Iorion lo usi in maniera sensata il punto è proprio che cioè tu hai già un problema di tasse era che avevi pochi starter e Giver of Runes ha dato una mano in quel senso adesso vai ad aumentare di 20 carte le carte nel mazzo e gli starter che aggiungi sono condizionali ovvero delle remove che tra l'altro in alcuni matchup sono anche indecorose perché l'effetto Exile può veramente essere una carta una scenità assoluta a seconda della situazione e proprio è addirittura contrario al piano del mazzo eccetera quindi io penso ci sono sicuramente dei vantaggi però onestamente mi sembra che gli svantaggi siano superiori c'è da dire comunque in un momento in cui il mazzo è veramente alla merda ci può stare a provare una cosa estrema cioè d'altra parte controlli comunque avere Iorion sicuramente può essere una cosa positiva anche se continua a preferire aprire mano con fiava ok sicuro e quanto riguarda i dati stompi ci inizia a dire il solito sfumato cioè è proprio sempre è il solito cubo grigio in tutti i lati però 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 non ci sono le cose chiedono di doomsday in chat infatti adesso passiamo a combo chiedono di doomsday doomsday vediamo la lunga secondo me non è male comunque fritti misti sorvoliamo vero per favore l'unica cosa che volevo dire sul fritto misto volevo far notare che giocano solo un dragon lord e però mi sa che hanno rimesso i darks duplicate forse ho sempre giocato tra me i darks duplicate hanno rapidità e dragon lord solo uno e che cosa c'è mono seero fin sanity e due not seed sembrano essere diventati un must e di side volevo far notare la cosa gli altri due not seed ok e green monolith giocano i green monolith di side evidentemente ha una scelta di gusto bohuang ha fatto la più pista ha fatto ancora top ha fatto finale di main era proprio forte non lo so anche me io anche io non giocarei di main però evidentemente devi far spazio per i calci calci effettivamente fa essere forse in G1 è meglio tentare di rallentare l'avversario e soprattutto diminuire la possibilità che di perdere da una spiga da una app può aver senso il ragionamento del genere tutto sommato i green monolith poi li metti nei matchup dove sai che devi andare veloce esatto devo stare e invece per quanto riguarda combo e per quanto riguarda show vediamo gli euro che iniziano a compagare il main deck ci sono main deck ci sono decide e questi qua sono entrambi due UG UG show anche perché UG Omniten dovrebbe essere il mazzo che sta meglio lo show che sta meglio da controllo esattamente uno dei combo che sta meglio da controllo in assoluto credo sì beh anche Doomsday insomma anche Doomsday che però è un po' più complesso giocare non complesso come quello di una volta è un po' più complesso da giocare e quello di una volta era complesso anche perché faceva veramente cagare cioè bellissimo come mazzo però no veramente cioè dovevi fare una fatica allucinante allora una scelta del primo è giocare Petro di Lotto cosa che non gioca l'altro cosa che generalmente non si gioca Petro di Lotto ti dà sicuramente qualche vantaggio credo anche contro Derwe e Anuel immagino sì sicuramente sicuramente e contro anche altre combo che possono spingere non so e non lo vedo male effettivamente Intuition che è tutore a Uro che può vincere da solo ovviamente in certi matchup e è interessante questa cosa perché quando Lotto tira Intuition tu ti trovi praticamente costretto a quel punto lì a seconda del matchup della situazione potresti essere veramente costretto a counterare quella e poi perdere dallo show che arriva il turno invece magari di farla risolvere no avete visto di cosa ha preso il posto aspetto di Lotto il posto di coming Wish quindi sì è proprio una scelta diversa di game plan e di solito Wish è il più svantaggiato una volta adesso non si parla più di scarti però è il più svantaggiato quando c'è gli scarti perché è una combo più complessa adesso non ci sono però ti rende il mazzo un po' più snello sicuramente Wish molte volte è una more che è in mano che è utile solo quando hai tutto apparecchiato e qui vabbè tu fai la tua combo hai triple intuition appunto per un motivo ma effettivamente non sembra male può essere una buona scelta l'altra invece è una scelta diversa gioca di solito i Cunning Wish gioca i pesci che io non giocarei mai però dicono che siamo forti i pesci è una merda per me è una vergogna totale no dai non mi è mai parla sia così brutta sinceramente senza averlo mai giocato non ci hai mai giocato contro sembra meglio però tutti gli dico ma sai che non è così male sai che non è così male non sarà così male e il show secondo voi avrà 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 vita beh questa lista qui se ci sono tanti controlli può aver senso il resto mi sembra mi sembra ma poi da dare un po' è migliorato rispetto a una volta anche se però il primo eh sì ecco non l'ho visto bene il primo non ha le vipere esatto ha messo i petali però ne vale la pena? non lo so io non sono così convinto sinceramente io a me non a me non dispiace petalo anche no ok però toglie la vipera boh cioè sei più di te appunti ha una scombata più cioè l'altro mazzo se la gioca molto più lentamente e niente cioè questo con la silva e la riga boh quella ancora si potrebbe provare visto che vipera sta un disastro è ancora un disastro no 20 tics troppo 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 bene andiamo a dante continua a fare risultato alto continuo una volta compare compare un top qualche volta appare un ant selvatico appare un ant selvatico lista vediamo quante lande 3 4 5 6 10 15 lande doppia fonte verde e monowishclo doppio pasto in flames lista l'americanata se vogliamo chiamarla doppio pif è sempre l'americanata doppio pif a me non mi è mai piaciuto io sono abbastanza di parte di solito lo si predilige in un metro di controllo dominato di controlli questo può essere questo lo è dovrebbe esserlo e ci può stare ci può stare dico di no la side molto classica molto molto classica però rimane il solito problema che da vale non vinciamo mai quindi si giochiamo i nostri doppio pif poi cosa facciamo ridere cosa facciamo ridere quindi siamo sempre lì contro girou no che dicevi no stavo andando a infel pensavo avessi finito no non lo so la solita dice non c'abbiamo un piano contro vedi cioè se prima avevamo lui si vale evidentemente sta gente gioca come fanno i germino vale forse ambrogio su bioboria l'unico delver che si gioca è il delver col verde i controlli sono che però ha pochi vale rispetto vabbè ha pochi vale ma chiaro non è mai stato il problema vale contro canadien per carità rispetto al picco non lo so secondo me questa gente qua scura secondo me questa gente becca quelli che no ma non pesca un vale oppure tipo fa scarto non c'ha vale fa scarto c'ha vale però fa altro scarto e vince c'è una roba così no poi soprattutto aumenta gli show che hanno un disastro ecco il mazzo peggiore che può beccare con i vale è in assoluto show in assoluto proprio in assoluto è proprio il disastro più totale quindi c'è proprio niente da fare io penso che non giocherò lo proverò probabilmente qualche volta ma per farmi preferire a tes se mi vuole se mi vuole non poco e dicevi di infect cosa vuoi dire sul bel infect ma no niente stavo passando a fare c'era infect ho visto guarda con la lista è abbastanza standard e vedo vedo che c'è great stable stag però in side che è un affare che ti permette di devastare i mazzi a base ub cioè lo tiri praticamente da finita solo che non capisco quali non puoi il car una creatura che è già un elk esatto però il discorso è proprio non capisco veramente visto che comunque for color ha tranquillamente le spighe e soprattutto questo affare non race a un mazzo che ha light gain cioè nel senso esatto era una scelta contro lex sconto si sconto mi pare di ricordare si comunque i fulmini però comunque da fulmini proteggi facilmente avendo anche invigore quindi chiaramente era un'ottima scelta in quel caso uno voleva provare a cambiare piatto però in questo momento diciamo che Ada che in chat giocava non mi ricordo Ada mi sono andati nascolta era una carta quando ho giocato anch'io aveva dato le sue soddisfazioni ma sicuramente questa lista abbandona il piano B di Oko ed è molto più lineare in G1 unica concessione a control è la Monosilvan Library poi dopo Poseid tenta non so non so neanch'io che cosa tenti perché alla seconda Sylvan tenta di far ridere come tutti i giocatori di Infect insomma no ricordiamo che Firenze Cloud è uno dei pochi giocatori di Infect che riesce comunque a fare risultato ed è quello che aveva vinto l'MKM di Febbraio quello che stream è quello che stream non lo so c'è uno che stream in Infect qualche volta comunque di solito è quello che vetta la linea per i giocatori di Infect è quello che ha fatto il primer aveva fatto un primer anche molto dettagliato anche quando ha fatto il primer e poi ha fatto un articolo dopo aver vinto il torneo ha detto anche che era l'unico risultato che aveva fatto alla fine quindi non voglio dire se è scarso però ecco non è che però ho detto non voglio dire se è scarso però ho detto hai detto anche interista di merda in parte di sentire infatti non è stand on tire può anche darsi che che uno magari che mi piace giocare quello faccia fatica a fare delle top cioè ci sta sto dicendo che ecco non è Tom Ross questo qua no no quello sicuro e aveva finito i soldi per comprarsi il chiodo è stato per quello per quello è Tom Ross Dado Decider Sline Bridge tanta roba eh Sline Bridge è quella carta contro i vari contro i vari il drazzi contro mazzi che ti possono buttare dei pezzi dei pezzi grossi e te li puoi passare tranquillamente sotto perché le tue bestie stanno sempre esatto vengono dopate nel momento giusto una chicca che si vede veramente però o no no esatto Ponte io non credo io ne ho listate di liste di Infect che mi sono canca a tutti quelli che hanno fatto un top con Infect di Okana di stare ste cazzo di liste con i monopair di side e uno e uno e uno e uno e uno se ti giuro tra liste di liste di Infect Maverick e Agro Rom sono i peggiori mamma mia schifetto un grande saluto a Tamarossa d'Italia un caro saluto Giulio dal vostro di Rufusaro secondo me Tamarossa c'è un attico Patrizio a Nuova York arriviamo a Romario Vidal parente chiaramente di Arturo Vidal andavano bene insieme e Tequila Chiellini ha scritto anche di lui nel libro non dimentichiamo sì Patrizio approderà all'Inter esatto è già dell'Inter e lui ha preso lui sono sbagliato Romario Vidal sono due giocatori Romario Vidal esatto era il 2x1 è un giocatore di Dredge che è tipico no è un giocatore di Dredge lui è famoso Romario Vidal giocava sempre i mazzi i mazzi con cose i mazzi tipo con Monolito giocava a Zilda Stimmaro Stimmaro anche Stimmaro un po' aveva il Monolito di cartone dato che è interista sì era il Monolito di cartone la lista mi sembra lista con doppia le line lista con i petali adesso che vanno vedo che sempre di più giocano i petali di main gioca i putti d'imp vedo a Dredge vedo che ha portato anche Togore se aveva fatto la challenge anche Togore si aveva fatto schifo in gossa ai labbi la scelta è mi pare che non giochi Kalfur Study giusto? sì infatti non gioca Kalfur Study però gioca 4-2-2 e gioca i putti vimp avvenevo boh Dredge è il solito mazzo insomma sì sì segna ancora tanto si Romario ha 54 anni però segna anche quelli non è il solito mazzo vi dà toccare i bimbi sui pulmi passiamo all'ultimissima cosa che volevo discutere con voi ovvero l'annuncio della Wizard a proposito di lunedì non digalo con quel sorriso quel maledetto sorriso lo sto vedendo ha detto cerchiamo cerchiamo di capire cosa vogliono fare allora hanno annunciato un annuncio come al solito hanno annunciato un annuncio che impatterà standard e historic che anche riguarderà la meccanica compagna e allora non si capisce se riguarda la meccanica compagna in tutti i formati riguarda standard e historic solo non si capisce un cazzo come sempre grazie Wizard grazie Wizard che ci fai conoscere Vince tra l'altro pensate se la Wizard non fosse mai esistito non avevo mai conosciuto Vince è un bene o un male direbbe qualcuno forse deve stare un bene probabilmente sì quindi secondo voi cosa faranno ci abbiamo persi un sacco di risate però non voi cosa faranno sì sì allora io l'unica cosa di cui sono sicuro è che faranno una cazzata bene per il resto non ma poi chi è che giochi historic che formato hai ma si giochi historic su cosa io non so realmente non so che cosa allora è il formato di tutte è il legacy di arena se vogliamo chiamarlo così tipo uno di arena nel senso che tutte le carte stampate su arena che sono presenti su arena ok tornando a noi allora io appena quando l'ho letto ho subito pensato che fosse una cosa relativa solo a standard e historic cioè che facessero demand e che cambiassero il funzionamento della meccanica ma solo per quei formati più ci penso e più inizio a sospettare che in realtà la meccanica companion non cambierà nella sua interezza la cosa che mi risulta allucinante che si è detta anche in privato ma ovviamente la diciamo appunto qui sul video nei segreti stanze dei bottoni esatto è assurdo è assurdo se fanno se veramente fanno cambiare la meccanica è assurdo che abbiano bannato l'urrus e zirda prima di provare a cambiare la meccanica perché da quello che è scritto qui è chiaro che non verranno sbannati l'urrus e zirda perché non c'è scritto niente per quanto riguarda legacy e tutto quindi non verranno sbannati ora bisogna vedere come cambierà la meccanica se cambia in maniera pesante poteva benissimo darsi che l'urrus e zirda rimanessero carte giocabili ma non ho pin si legge online della roba ora prendetela molto con le pinze c'è per chi dice che praticamente faranno in modo che il companion tu devi pagare tre mana per prenderlo in mano dalla side una roba del genere e una roba del genere chiaramente sarebbe molto deleteria per l'urrus specialmente in un delverdeck per zirda un po' di meno però per l'urrus sarebbe un disastro si ma anche per zirda comunque abbastanza problematica per giruda disastro eccetera eccetera quindi una cosa del genere ci sta benissimo magari una soluzione anche sensata però ci sta benissimo di provarla prima del ban invece in questo momento siamo in una situazione in cui non si capisce che vogliono fare ma se veramente intervengono sulla meccanica nel complesso veramente non ha nessun senso l'ordine delle azioni che hanno preso poi magari restavano p non credo proprio però magari restavano p allora dopo li bannavano almeno provare poi un mantra della wizard non è sempre stato ma noi la meccanica non possiamo cambiarla solo in un formato ma lo dobbiamo cambiare in tutti cioè c'è sempre stata sta stronzata della wizard e noi tutti i formati devono andare di pari passo che è una stronzata gigante perché nel momento stesso in cui tu giochi tu hai dei formati che si giocano solo su una piattaforma e non si giocano su un'altra che sono praticamente le carte nuove sono studiate per giocare su questa piattaforma perché in molti che ci nascondiamo le carte che abbiamo nel tipo 2 sono studiate per entrare e rendere l'esperienza migliore in teoria su arena tipo 2 limited cosa che poi non è così perché sbagliano completamente a progettarle quindi nel momento stesso in cui tu hai metà del gioco che è su arena metà del gioco che è fuori d'arena come fai a dire vado di pari passo bambini il mantra della wizard è sempre stato bambini esatto bravo Giulia quindi mi sembra che proprio che farà una stonzata anche qui però non lo so io non so comunque non è sbagliato tutto poi pensiamo è molto è molto semplice sbagliato tutto hanno già assunto vice? esatto no comunque pensiamo anche al timing in cui è stato mandato questo annuncio che è stato una settimana dopo il ban cioè non è possibile che nell'alcoli una settimana hanno capito tutto è arrivato la situazione si è si è demolita si è aggravata con il titanio sono stati toccati dallo spirito santo e hanno capito che cioè devono cambiare si cambia da oggi si cambia mamma mia che teste di cazzo hanno visto anche loro dio sulla Roma l'Aquila sulla Roma l'Aquila vicepresidente della Wizard dicono giustamente se la stanza dei bottoni fosse il bunker come dicono i bunker io vorrei avere un incontro tra Maro e Vice cioè veramente potrebbe essere qualcosa di bello Vice aveva già avuto l'incontro nella parola con Maro però Maro quello stampato quello lì la creatura la bestia l'aveva conosciuto comunque fanno una stonzata e siamo tutti d'accordo dai un saluto buono chiudiamola qua Monta ha detto meno di un'ora un'ora e sedici perfetto si non avevo voglia però la voglia viene mangiando viene parlando addio